e te pareva, potevamo incontrarla noi la Juventus domenica in un momento un po' così no, noi incontreremo la Juventus in un momento bello carico con due vittorie consecutive alle spalle va bene, detto questo ragazzi buonasera, buonasera a tutti bentornati qua sul canale dal vostro amico Necci nella casa del pane Balun bene ragazzi oggi giornata di Coppa Italia oggi e domani, oggi si sono giocate Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria sono passate sia la Juventus che la Lazio, la Lazio è andata ai supplementari però poi è passata con gol di immobile, la Juventus invece ha passeggiato sulla Sampdoria e tutto abbastanza liscio diciamo, non ha mai rischiato perciò bene ragazzi allora parliamo di questo, facciamolo insieme ragazzi e fatemi prima ricordare una cosa, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi fatelo io continuo a dirlo perché sarò anche stressante però effettivamente noto che tanti fa piacere guardare il video però non si iscrivono o magari li perdono, sono iscritti, si dimenticano attivare la campanella non succede nulla di male non è che scoppia il telefono cioè non è una micro bomba che esplode semplicemente vi avverte ogni qualvolta io pubblico un video perciò se a voi fa piacere ascoltarli è bello no? perché vi arriva la notifica e poi voi quando avete voglia e tempo lo guardate ce l'avete lì a portata di mano senza aspettare che andiamo a vedere se ha pubblicato NICE cosa dice, cosa ne pensa lui perciò secondo me è molto comodo perciò vi suggerisco di attivarla, di iscrivervi soprattutto di mettere un bel like e questo lo dovete fare subito, fin da subito fatelo perché il like lo potete levare alla fine del video se non vi è piaciuto perciò mettetelo perché poi se non lo mettete adesso vi dimenticate fidatevi mettete il like e condividetelo ragazzi condividete il video con altre persone perché condividendolo più si fa in modo che tante persone ci conoscono e chi vuol far parte di questa comunità ha più possibilità detto questo ragazzi parliamo delle partite prima di parlare della partita della Juve voglio dire giusto due cosettine sulla partita della Lazio una partita vabbè la Lazio ha fatto girare un po' di uomini i mobili l'ha tenuto in panchina ha fatto giocare un po' di giocatori che non giocano spesso ma io penso che sia anche un po' da contratto a volte in certe società tanti giocatori da contratto sanno che vanno lì magari per fare la panchina e poi comunque gli garantiscono le partite di Coppa Italia perché a volte vedi dei nomi che non giocano quasi mai perciò detto questo va bene però a volte comporta anche di rischi perché comunque secondo me la Lazio non ha rischiato poco contro l'Udinese e poi sono quelle partite che è un po' strane comunque l'hai portata sullo 0-0 sei dovuto andare a supplementare poi è vero l'hai risolta però prima che segnasse immobile l'Udinese aveva preso una traversa su punizione al primo tempo superiore poi tutto può succedere rischi di perdere la qualificazione comunque la Coppa Italia è un trofeo è un trofeo che la Lazio può negli ultimi anni ha vinto più di una volta e può ambire a vincere lo scudetto è una cosa talmente lontana per la Lazio secondo me in questo momento la Coppa Italia non la devi rischiare però comunque detto questo è passata è passato il turno perciò incontrerà il Milano e Quarto di Filania lo incontreremo noi vedremo un po' come andrà a finire detto questo ragazzi arriviamo alla partita della Juve la partita della Juve è stata una partita senza senso nel senso la Juve ha stradominato dall'inizio alla fine non c'è stata mai storia veramente la Sampdoria l'ho vista in serie serie di difficoltà ma anche loro ha fatto giocare qualche giocatore comunque mancava Candreva mancava Quagliarella però vabbè la Juve veramente ha passeggiato sulla Sampdoria ha passeggiato in tutto e per tutto ha giocato una gran partita Quadrato ragazzo Quadrato è un qualcosa di impressionante è a tutto campo in questo momento Quadrato è proprio la Juve cioè se manca Quadrato è tanta tanta roba perché Quadrato sta facendo un'annata strepitosa e la Juve secondo me quel poco che è riuscita a fare lo deve molto a Quadrato secondo me molto molto lo metti in qualsiasi posizione ma poi è veramente ha una strapotenza fisica comunque Quadrato non è giovanissimo ha tanti anni che gioca la Juve insomma è forte insomma passa in vantaggio a Juve appunto poi con questo gol di Quadrato su punizione la punizione lascia un po' il tempo che trova nel senso non è una punizione di quella di Bala perché comunque ha tirato era molto vicino al limite dell'area ha tirato a mezza altezza il giocatore della Sampdoria si è spostato il portiere l'ha vista passare gli è passata proprio a fianco ma insomma se fosse stato rimasto fermo il giocatore della Sampdoria non avrebbe fatto gol Quadrato detto questo meritava assolutissimamente l'1-0 perché era sempre lì continuava a spingere aveva avuto un sacco di occasioni perciò subito dopo l'ha avuta un'altra con Rugani insomma si chiude il primo tempo sull'1-0 ma poteva poteva dilagare già nel primo tempo secondo me la Juventus poco male vabbè inizia il secondo tempo inizia con più o meno sulla falsariga del primo la Juventus riprende a macinare il gioco fa il secondo gol questa volta lo fa con Rugani ci era andato vicino nel primo tempo fa un gran bel gol un gran bel stacco di testa nell'angolino bello un bel gol partita sostanzialmente in mano 2-0 diventa poi difficile per una Sampdoria poter cercare di eventualmente arrivare a un pareggio 2-0 partita finita e invece no invece no perché poi dopo vedete come sono poi ci si mette anche un po' la sfiga perché la Sampdoria fa un'azione strana lì sulla fascia quel giocatore ma niente non è neanche in maniera pericolosa perché sulla tre quarti fa un cross altezza limite dell'aria dove un giocatore a Sampdoria fa un velo uno della Juve si dimentica di prendere l'altro guardava per aria insomma la palla è arrivata a Conti che ahimè ex Milan fa questo tiro stop e tiro al volo d'esterno nell'angolino alla garrincia insomma fa un gol bellissimo 2-1 partita riaperta perché poi sostanzialmente le partite di calcio sono così una squadra che non c'è mai stata in campo ti fa un gol così che arriva dal nulla e rischi veramente di riaprire la partita perché dopo un minuto del 2-1 la Sampdoria ha addirittura la possibilità di pareggiare cioè ragazzi le partite veramente possono cambiare da un momento all'altro perché poi dopo psicologicamente cambia tutto tutto non pareggia e poi arrivano i cambi entra di bara e quant'altro cerca comunque però la Sampdoria poi a un certo punto si sbilancia un po' di più perché prende un po' di fiducia e dice beh 2-1 abbiamo avuto un'occasione magari possiamo andare a pareggiare ma sostanzialmente pasticciano in difesa tra portiere e difensore si passano la palla ma sostanzialmente la lasciano lì a quello della Juve che prende in sacca Di Bala fa subito il 3-1 richiude subito la partita esultanza non alla Di Bala che stanno dicendo tutto eh ha esultato avete visto non c'è niente non ha esultato alla Di Bala innanzitutto ha fatto un'esultanza diversa e comunque io ho visto uno sguardo verso la tribuna comunque non come quello della partita scorsa però l'ho visto poi vedremo vedremo ma non mi è sembrato anzi mi è sembrato come dire un'esultanza la sto guardando adesso che la stanno facendo come dire avete visto? cioè proprio non lo so non lo so sarà una mia impressione comunque detto questo 3-1 partita conclusa poi arriva il rigore che Di Bala in maniera fa un bel gesto glielo lascia glielo lascia tirare a Morata che insacca il 4-1 e basta partita sostanzialmente finita ma non ripeto a parte quei due minuti dove la Sampdoria ha fatto il gol e poi ha avuto l'occasione ma non c'è mai stata veramente gara è fortunata è stata brava la Juve perché avendo subito il gol e quell'azione si è saputa subito riprendere perché in certi momenti puoi anche magari andare un po' in panico e subire il contracolpo invece no si è saputo l'ha avuto appunto due minuti il contracolpo questo si è saputa riprendere bene perciò la Juve passa ai quarti di finale bella galvanizzata ha vinto la sua partita di campionato ha vinto stasera arriverà domenica stansera incontrare il Milan bella bella piena di di certezze sicura di sé con un Di Bala pronto a a riguardare la tribuna a sfidare la tribuna però contro di noi forca miseria ragazzi va bene dai iniziamo ad entrare in clima in clima partita Mila Juve perché domenica ne vedremo delle belle va bene ragazzi io vi chiedo un bel like se non l'avete messo prima se vi è piaciuto il video lasciatelo se l'avete messo prima invece ragazzi vi auguro una buona notte ci vediamo domani e come dico sempre io ragazzi ciao 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 Grazie.